Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, pagina della cronaca nera in apertura del nostro telegiornale. Ci occupiamo dell'attentato incendiario commesso alle prime luci dell'alba ai danni della discoteca Tanghera. Mani ignote hanno raso al suolo la pizzeria. I danni sono ingenti, indagano i carabinieri, proprietari assicurano non ci fare menti morire da chi vuole danneggiarci e per la festa di San Valentino saremo regolarmente aperti. Vediamo. È stato un panificatore che si trovava nella zona poco dopo le 5.30 ad allertare i proprietari. Le fiamme stavano avvolgendo il locale Tanghera in una contrada femmina morta a Gela. Giunti sul posto i fratelli Roberto e Maurizio Satorini si sono trovati dinanzi ad una impressionante devastazione. Mani ignote poco prima avevano appiccato il fuoco. Il larrogo ha divorato un'area di circa 500 metri quadrati. In quel posto, fino a ieri sera, insisteva una pizzeria. Tutto distrutto, non è rimasto nulla. Tavoli, sedie, suppelletti ridotti in cenere. I danni, non coperti da assicurazione, sono ingenti, così come dimostrano le immagini. I vigili del fuoco del locale di staccamento hanno dovuto lavorare alacremente al fine di spegnere le fiamme. L'indagine è curata dai carabinieri del reparto territoriale agli ordini del comandante Valerio Marra. Un incendio di proporzioni enormi che avrebbe potuto creare danni ancora più ingenti se in quel momento, come dicevamo, un panificatore non si fosse accorto di quanto stava accadendo. Proprio un anno addietro, era il 14 febbraio, i ignoti appiccarono l'incendio nell'area interna, nei pressi della piscina, distruggendo un gazebo. Tre anni prima, il 7 giugno del 2012, fu presa di mira la biglietteria del locale. Il fuoco, in quel caso, interessò anche una vettura che era in sosta nelle vicinanze. Il tanghera è uno dei punti di ritrovo maggiormente affollati da giovani del comprensorio. Indagini febbrili per dare un nome ed un volto a chi ha agito la scorsa notte sono state avviate, come dicevamo, dai carabinieri. Cambiamo argomento, parliamo dei 10 punti per l'avvertenza Gela che sono stati preparati dai sindacati confederali CGL Cislewil assieme alle organizzazioni del commercio da inviare a 90 deputati regionali e 945 tra deputati e senatori di Camera e Senato. Vediamo. Una ricetta immediata per evitare che Gela venga cotta la riceveranno nelle prossime ore 90 deputati regionali e 945 tra deputati e senatori di Camera e Senato. Una ricetta che è stata preparata dai sindacati confederali CGL Cislewil assieme a Casa Artigiani del Golfo di Gela, Confcommercio, Confesorcenti, Confartigianato e CNA. 10 punti per l'avvertenza Gela, 10 punti per salvarci, sottolineano i firmatari. In 10 punti le proposte che immediatamente consentirebbero alla città e al territorio di intravedere un presente sereno, condizione indispensabile per programmare il futuro. Tutte le sigle firmatari del documento sono così convinte che tutti sanno e nessuno domani potrà dire di non sapere. Qui, ribadiscono, si gioca la partita della responsabilità dell'etica pubblica e del buonsenso. Il documento sarà inviato anche all'ENI per i punti di competenza aziendale ad iniziare dalla riconversione. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i 10 punti. Esenzione del contributo addizionale a carico delle aziende richiedenti cassa integrazione in deroga, ricadenti nelle aree di crisi complessa. Prolungamento delle misure di sostegno al reddito in corso di fruizione o già fruite dai lavoratori dell'indotto per la durata degli interventi di riconversione, così come sottoscritto nel protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014, fino alla ripiego dei lavoratori e con pagamento immediato. Piano di prevenzionamento per i lavoratori che hanno svolto lavori usuranti e ad alto rischio per la salute, malattie correlate alla presenza di amianto. Autorizzazione all'utilizzo di risorse regionali per finanziare misure di politica passiva, compresa la disponibilità di disporre degli stanziamenti statali per la cassa integrazione in deroga 2016. Attivazione dei fondi europei globalizzazione, già previsto nel protocollo d'intesa del Ministero dello Sviluppo Economico. Interventi a valere sul fondo per le politiche attive, creazione della zona franco-urbana compresa la zona industriale per vecchie e nuove attività, accelerazione dei tirocini formativi previsti dal programma Garanzia Giovani ed ancora incentivare le botteghe scuole per la creazione di nuove opportunità lavorative e artigianali e velocizzare l'iter per l'avvio delle bonifiche in tutto il territorio di Gela. Il sacerdote gelese Don Pasqualino di Dio sarà uno dei parroci più giovani che Papa Francesco ha scelto per essere missionario della misericordia. Papa Francesco invierà nel mondo il 10 febbraio mercoledì delle ceneri Don Lino assieme a 1071 sacerdoti per predicare la misericordia e assolvere casi riservati alla Santa Sede. Sono contento, ha detto Don Pasqualino, di poter svolgere questo servizio per il bene delle anime e portare a tutti l'abbraccio paziente di Dio e la benedizione del Santo Padre. Don Pasqualino è stato uno dei primi sacerdoti che ha incontrato Papa Francesco subito dopo la sua elezione. Come missionario della misericordia Don Lino sarà a disposizione delle diocesi per le confessioni, incontri e catechesi. I vari missionari dopo il mandato pontificio ritorneranno nelle loro diocesi di provenienza. I vescovi possono contattarli attraverso un elenco che il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione sta inviando a tutti i presuri del mondo. Adesso parliamo del Carnevale Gelese, oggi festa per gli studenti delle scuole. Sentiamo. Ti piace questa festa? Sì. Noi rappresentiamo la carta differenzata, questa scuola è molto bella. Sono i bambini che si sono voluti vestire come hanno voluto e stiamo insieme qua all'interno di questa manifestazione per partecipare anche nel sociale, la nostra scuola è il primo circolo, insieme a tutte le altre scuole e portare un po' di festa all'intera cittadinanza. Nonostante la crisi e l'aria pesante che si respira in città non avete rinunciato ad un momento di festa per i bambini. Come la stanno vivendo e che cosa rappresentate? No, infatti assolutamente anche questa per noi è attività didattica e vogliamo fortemente lanciare un messaggio educativo. fare una corretta raccolta differenziata, conferire nei giorni stabiliti il rifiuto corretto. Quindi ciascuna interclasse ha scelto un giorno della settimana e poi l'ha realizzato così come vedete con i bambini in maniera ludica e didattica. Dal mare inquinato invece al mare pulito, questi bambini rappresentano quello che potrebbe essere la risorsa più importante della nostra città. Il mare che vorrebbero loro, un mare pulito, un mare pieno di pesci, pieno di cose belle, ecco, loro lo rappresentano benissimo. Ancora una volta un altro momento di festa per i nostri giovani, per i nostri ragazzi. In occasione del carnevale vedo una grande partecipazione da parte di tutti gli istituti scolastici e speriamo, ecco, di poterci divertire anche questa sera e di poter passeggiare in maniera molto libera e divertente, ecco. Assessore, si è detto tante volte che nonostante il periodo buio che sta attraversando questa città era doveroso regalare un momento di allegria e divertimento ai bambini e in effetti i bambini sono scesi in piazza con il loro sorriso e si stanno molto divertendo. Li ringraziamo, insomma, per la loro adesione, la loro felicità e anche per essersi, insomma, industriati a fare costumi secondo i temi che l'amministrazione aveva segnalato e speriamo davvero il prossimo anno di poterlo fare un po' meglio, insomma, facendoli programmare di più sia gli insegnanti che gli istituti scolastici per incominciare a fare qualche carro ma sempre fatto qua a Gela e non importato da altre zone della Sicilia perché non ha senso per me è più bello, insomma, che i ragazzi facciano qualcosa per la città. Tra i temi scelti c'è la raccolta differenziata, forse è il tema che è andato per la maggiore. Sì, è andato per la maggiore, ma c'erano anche le civiltà, insomma, antiche abbiamo visto degli antichi egizi, poi qualche supereroe in giro che era tra, insomma, i temi del carnevale devo essere sincera, insomma, abbiamo avuto una grande collaborazione da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti. E al termine della sfilata Frittella in piazza per tutti preparate dall'Istituto Alberghiero DJ la musica e divertimento con la Conci Event. Sentiamo. Cosa proponete oggi? Oggi proponiamo le chiacchiere e le spinge con spumante, prosecco e arancia rossa. Per voi anche questa diventa un'esperienza molto importante di contatto con la città. Sperate di rimanere a lavorare qui nel nostro territorio? Sì, si spera questo, che aprano porte anche per noi giovani che abbiamo bisogno di lavorare. Si conclude il carnevale 2016 a Gela, è stata un'esperienza entusiasmante per i bambini sicuramente e ultima manifestazione con Frittelle per tutti e ancora la Conci Event. Beh, devo dire che Gela mi ha regalato delle emozioni che ricorderò per sempre. Giorni di festa, giorni di show, abbiamo voluto pensare tutta la famiglia, parlare di sfilate è stato molto riduttivo perché c'erano dei temi sociali, dello spettacolo e si pensa già a fare la seconda edizione. I bambini si stanno molto divertendo, voi avete un po' coordinato il lavoro? Eh sì, abbiamo un po' le dritte a questi bambini. Si sono divertiti, ho visto la gente divertirsi e chissà, magari riprovare per un prossimo evento. Il connubio moda-carnevale è riuscito alla fine? Per noi sì, benissimo. Devo dire che molti bambini hanno apprezzato perché sognavano magari il loro futuro, le piccole promesse di Gela che già iniziavano a vedersi con occhi più grandi. Quindi appuntamento al prossimo anno? Sicuramente, ma io penso che prima dell'estate sentirete ancora qualche nostro evento. E gli alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga, assieme ai propri insegnanti in maschera, hanno festeggiato oggi il Carnevale. Animazione, sorprese, intrattenimento, spettacoli acrobatici, giochi, balli in una cornice di colori e festa. Anche il Carnevale rientra tra le attività didattiche del POF dell'Istituto. La festa rappresenta il momento conclusivo di un percorso di conoscenza delle tradizioni carnascialesche, e di attività manipolative e creative a tema. Il Carnevale è una festa che la scuola propone e vive anche per favorire la crescita dei processi di socializzazione, relazionale e di comunicazione attraverso attività rivolte agli alunni, favorendone l'acquisizione della consapevolezza della propria identità di giovane e di cittadino e la capacità di realizzare momenti di aggregazione e svago in direzione di una piena inclusione sociale e civile. Anche quest'anno l'Aias di Gela ha promosso una festa di Carnevale speciale, un incontro che unisce momenti di divertimento con attività educative che hanno come tema principale il progetto di socializzazione dei pazienti. Mentre nel centro storico della città sfilavano le scuole con le loro mascherine, l'Aias festeggiava il martedì grasso al Palalivatino di Gela la presenza delle famiglie e dei vari operatori della struttura. Ad animare la grande festa è ancora una volta il Movimento Giovanile San Francesco che con canti e balli di gruppo ha fatto trascorrere un paio d'ore a grandi e piccine all'insegna della spensieratezza. Un Carnevale realizzato con il riciclo di stoffe e abiti che gli operatori dei laboratori di taglia e cucito hanno sapientemente realizzato durante le scorse settimane, seguendo i gusti dei pazienti di Borgo Manfria. Ci fermiamo, termina qui la prima parte del nostro telegiornale. Spazio alla regia per la pubblicità. Torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. È possibile presentare la domanda per la disoccupazione agricola relativa all'anno 2015. L'istanza può essere presentata da tutti gli operai agricoli che abbiano conseguito almeno 102 giornate lavorative nel BN 2014-2015. La domanda deve pervenire in via telematica alla sede IMS competente entro il 31 marzo prossimo. Tutti i lavoratori agricoli possono rivolgersi presso gli uffici del CAF Italia in corso Salvatore Aldisio numero 39 a Gela, accanto alla villa comunale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. C'è anche un numero telefonico 0933 90 85 36. Si terrà venerdì 12 febbraio prossimo alle 17.30 nei locali della libreria Mondadori di via Marconi 25 a Gela la presentazione del libro di Antonio Maria Calafiore La luce del tramonto. Converserà con l'autore il giornalista Anza Franco Infurna. Sarà presente l'editore Simona Maimone. Domenica 14 febbraio nei locali di Palazzo Ducale in piazza Calvario sarà presentato il libro scritto dall'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro dal titolo L'uomo è un mendicante che crede di essere un re. Interverranno oltre all'autore Rita Bernardini, già presidente dei Radicali e l'avvocato Giacomo Ventura, presidente della Camera Penale. Modererà i lavori la giornalista della Sicilia Maria Concetta Goldini. Concluderà la professoressa Lina Orlando, amministratore della libreria Mondadori di Gela. L'appuntamento è previsto per le ore 10. La sottosezione dell'unità al sì di Gela celebra la giornata mondiale del malato. Giovedì 11 febbraio giornata mondiale del malato in Chiesa Madre con la presenza del personale volontario e delle varie associazioni di volontariato. e domenica 14 febbraio celebrazione eucaristica presso la casa di cura Santa Barbara. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte, lasciate libero lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino rimarrà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio prossimo. I gelesi che hanno richiesto di fruire del servizio di assistenza domiciliare devono presentare entro il prossimo 12 febbraio all'ufficio di segretariato sociale del Comune di Gela l'attestazione in corso di validità dell'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. Lo ha reso noto l'assessore comunale servizi sociali, Licia Abela. Il mancato adempimento agli sportelli di Viale Mediterraneo invaliderà l'istanza inoltrata lo scorso mese di gennaio da ultra 65 anni e portatori di handicap gravi e quali riservate il servizio di assistenza domiciliare mediante voucher sociale. Adesso ci occupiamo di sport. Dopo il successo conquistato domenica scorsa in casa, il Gela ha riconquistato la vetta del girone A del torneo di eccellenza per il tecnico del Paceco. La formazione bianca-azzurra vincerà il campionato. Vediamo. Il loro buon che è successo conquistato domenica scorsa ai danni del Paceco, tra vitto per 5-0 ed il conseguente pareggio ottenuto dalla Sencadaldese in trasferta contro la Profavara ha permesso al Gela di riconquistare la vetta del girone A del campionato di eccellenza. Adesso sono in tre a guidare la gradutoria. Oltre ai bianca-azzurri, del tecnico Toto Bruculeri e alla stessa Sencadaldese, c'è anche il Dattilo Noir che dopo un periodo di appannamento ha ripreso a vincere. Dunque lotta a tre per il salto di categoria, almeno per il momento. Il Gela deve continuare di questo passo, soprattutto in trasferta, perché è proprio fuori dalle muramiche che i risultati sono altalenanti e la dimostrazione la si è avuta accammarata 15 giorni addietro. Un pareggio che ancora è difficile da digerire. Comunque l'importante è che Bonafini e compagni abbiano ripreso la strada maestra. Contro il Paceco non c'è stata storia. Un pocherissimo che la dice lunga sulla forza del team gelese. Quando è in giornata il Gela non ha paura di niente e di nessuno. Intanto i complimenti alla squadra, tanto cara al presidente Angelo Tuccio, giungono direttamente dal tecnico del Paceco, Massimiliano Mazzara. Il Gela è una squadra quadrata, forte in tutti i reparti. Una squadra che io già l'avevo visto bene sia all'andata che è stata l'unica scopetta e non l'abbiamo avuto in casa, anche se allora sicuramente non lo mettevamo la sconfitta perché il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Oggi invece non c'è stata partita. Sin dall'inizio una squadra che voleva vincere la partita l'ha messa subito bene. Il Gela penso che... Tra il Gela e il San Cataldese, Dattelo, se la giocheranno fino all'ultimo. Però da quello che ho visto oggi penso che il Gela forse è un tantino in più sopra delle altre. Sicuramente ha un rostro di giocatori notevole di categorie superiori. Quindi incontravamo una squadra che sicuramente punterà a vincere il campionato e io penso che lo vincerà. Comincia anche per la Fidas Adas di Gela la settimana dedicata alla festa di chi si vuole bene in occasione di San Valentino, ricorrenza che sarà celebrata domenica 14 febbraio al centro di raccolta fisso di Via degli Appennini numero 5. Si terrà una speciale raccolta di sangue dedicata alle coppie che vorranno donare nella stessa giornata ad accoglierle i volontari che doneranno gadget scelti per la ricorrenza. C'è l'informazione cinematografica, sono due film in programmazione al Cineteatro Antidotto di Macchitella a Gela alle 17.30 e alle 19.30, Carol e alle 21.30 il Ponte delle Spie. Con l'informazione cinematografica è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.